lavare i piatti va bene, ma c'è altro da fare nella vita Dixam piatti in nuova formula, con più sostanze attive lava i piatti a fondo e in poco tempo e guardate che pulito, fantastico! Dixam, perché la vita è più che l'apparenziatti la vita è più che l'apparenziatti Gioca, lavora, riposa e poi salta, poi corri, poi studia e vai il ritmo della vita non si ferma mai Gusta anche tu la giusta energia di Kinder Buero per una vita a ritmo pieno Azione e colore Biospray il nuovo additivo che in più ha l'anticalcificante e che aggiunge al tuo detersivo Tra te e papà ne combinate di sporco e di macchie ma non ci preoccupiamo questo qui sa fare bene un sacco di cose Fa sparire le macchie mantiene il bianco e i colori rispetta i tessuti e l'anticalcificante aiuta tutti gli altri perché combatto il grigiume del calcare Azione e colore Biospray l'additivo con anticalcificante Il mio tentativo di oggi è quello di tramutare lo stadio in piazza di non far sì che il concerto sia un monologo ma sia un dialogo vero Film, storia, concerto da una trionfale tournée Antonello Venditti da San Siro a Samarcanda L'amore insegna agli uomini Blonde, 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 blonde Quando un riso che non scuoce è proprio buono È blonde Duke Atkinsons Padrone del gioco Mia madre dille sempre Fai melanda con Melinda Fai melanda con Melinda Fai melanda con Melinda Più che mela Melinda Questa sera su Rai 1 nell'intervallo pubblicitario prima del telegiornale delle ore 20 Non mancate a varietà Kimbo Ci sarà un ospite speciale e ci sarà Kimbo il caffè davvero speciale Grazie per la cena La zuppa di alga è stata pirotecnica mangiata con i bastoncini Il pesce così fresco da sembrare crudo L'anatra piccante così piccante da lasciarmi a bocca aperta Devo dire che la tua cucina mi ha davvero colpito Parker Duofold Ditelo con una penna È da piccoli segnali che si capisce se siamo o no in riserva Ci vuole un aiuto naturale ed equilibrato per mantenerci sempre al giusto livello di efficienza Kinder Cereali La natura dei cereali L'apporto nutritivo del latte e la bontà del cioccolato Kinder Cereali Ricarica naturale A portata di tasca